Oggi abbiamo deciso di spiegarvi il funzionamento della macchina da sottovuoto della Silvercrest venduta nei supermercati Lidl. Vi faccio vedere come si fa in maniera facilissima il sottovuoto ad esempio di un affettato. Abbiamo qui un prosciutto appena comprato e con la nostra macchina e il rotolo di sacchetti in dotazione quando effettuate l'acquisto vi faccio vedere quali sono i procedimenti da seguire qual è il risultato finale veramente è una macchina molto molto comoda allora la prima cosa che facciamo è andare a tagliare un sacchetto una parte del rotolo della misura del prodotto che vogliamo mettere sottovuoto quindi diciamo che lasciamo da un lato e dall'altro circa 5 cm 6 cm quindi andrò a tagliare cercando di andare il più dritta possibile a questo punto a questo punto la prima cosa che facciamo è sigillare questa estremità del sacchetto apriamo la macchina premendo i pulsanti di sblocco e posizioniamo il sacchetto in questa parte centrale avendo cura che il bordo sia a metà di questa parte in plastica quindi lo posizioniamo così non deve essere né superiore non si deve posizionare né nella parte superiore né nella parte inferiore quindi questa posizione e questa sono sbagliate si deve appoggiare qui al centro una volta trovata la posizione andiamo a chiudere e procediamo spingendo e facendo sentire lo scatto e andiamo ad effettuare la sigillatura di questo lato premendo questo pulsante quando lampeggerà e si spegnerà sarà pronto lampeggia e si spegne posso a questo punto tramite i pulsanti di sblocco laterale aprire il mio apparecchio vedete questa estremità adesso è correttamente sigillata procedo ad inserire l'alimento da mettere sotto vuoto si è creata una sorta di tasta in cui io lo infilo comodamente dopodiché procediamo la stessa maniera quindi riprendiamo il nostro sacchetto lo mettiamo qui esattamente al centro del pezzo in plastica chiudiamo facciamo sentire lo scatto da tutti e due i lati e premiamo questo tasto qui che sarà quello della funzione sotto vuoto è terminata la procedura di sottovuoto adesso c'è la procedura di sigillatura del sacchetto e quando tutto lampeggia e poi si spegne vuole dire che il nostro prodotto è pronto guardate il nostro prosciutto è bello insacchettato e così si potrà conservare il frigo per più giorni precedentemente avevo messo sottovuoto del formaggio è un pezzo di guanciale guardate sono molto molto aderenti e quindi presumo che in frigo possano essere tenuti per un periodo molto più lungo rispetto alla conservazione normale spero che il video vi sia stato utile vi sia piaciuto anche se è sulla un po dal nostro tema che è quello degli amati robot da cucina messier chiusi in connette plus ho pensato di fare una cosa utile per tutti gli appassionati dei vari prodotti silvercrest questo devo dire lo trovo veramente veramente utile e se vi va potete continuare a seguirmi su questo canale mettendo un like a questo video ed iscrivendovi al cucina con messier oppure iscrivervi al nostro gruppo facebook sui messier chiusi in connect e plus che si chiama messier chiusi in connect e plus italia e c'è anche il sito messiericette.it sul quale trovate tutte le ricette che poi realizzo nei video e buon sottovuoto per tutti quanti a tutti i miei